Complice l'aria torrida o il clima prevacanziero, Consiglio regionale particolarmente soporifero questa mattina, mozioni, interrogazioni, ma l'aria pesante è stata, come dire, rotta, squarciata dalla protesta degli operatori sociosanitari davanti all'aula del Consiglio, soprattutto dopo la bocciatura che c'è stata sia da parte dell'ASREM sia da parte del commissario ad acta per la sanità, dopo due mozioni passate all'unanimità che ne raccomandavano la prosecuzione dei contratti, tutto si è fermato, almeno questa è la situazione al momento, però si possono ancora aprire delle strade per circa 80 persone, ne parliamo insieme al Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Iorio con una lunghissima esperienza da governatore. Allora Iorio quali sono le ipotesi in campo? Ma io credo che innanzitutto bisogna definire il quadro della discussione, stiamo parlando di personale che si è dato veramente con l'entusiasmo necessario e con il coraggio dovuto al tipo di lavoro fatto in un anno di Covid tremendo e ricordiamo sono persone che abbiamo definiti angeli perché sono quelli più vicini ai malati, quelli che devono toccare i malati di Covid, quelli che all'inizio non avevano nemmeno tutte le precauzioni che poi sono intervenute in una fase successiva, un momento drammatico e di difficoltà, bene questo personale merita rispetto, merita attenzione, la sta meritando in tutte le regioni e anche da parte del governo nazionale, soprattutto in presenza di una discreta disponibilità economica per risolvere il problema, io credo che l'ASREM e il commissario abbiano eccepito la loro capacità giuridica a dare una risposta. Non è sufficiente l'ordine del giorno o la mozione del Consiglio e allora si faccia subito un decreto da parte del commissario Toma, commissario straordinario per il Covid, che ha il potere di poter imporre all'ASREM una soluzione dovuta, oppure se nemmeno il commissario se la sente, il Consiglio regionale può legiferare all'unanimità naturalmente, insieme al governo regionale, può legiferare la soluzione del problema attribuendo anche la disponibilità economica che mi risulta esserci. Quindi lei chiede sostanzialmente al Presidente Toma di intervenire in prima persona? Sì, se non lo ritiene, non saprei neanche i motivi, perché credo che un commissario straordinario come Presidente della Regione possa fare un decreto di questo genere, ma siccome spesso Toma eccepisce aspetti amministrativi, quando vuole, che gli impediscono di operare, io dico che se dovesse non avere il coraggio di farlo, allora il Consiglio regionale sicuramente questo coraggio lo troverà, perché non si tratta di essere coraggiosi, si tratta di essere giusti, anche perché questo personale mi risulta che serve all'ASREM.